musica 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 Allora, abbiamo di che cosa fare? Abbiamo di che cosa fare, mamma mia che italiano, vedete che sono appena svegliato. Ho iniziato bene il fatto che sono svegliato un po', non so come c'è di parlare, non so. Andiamo nel prossimo eredio. Come andiamo. Come andiamo. Come andiamo. Ciao. Ma non ce ne può essere vento nell'ascensore che si alza la... va che a velocità va per alzare così il montello. Come andiamo. Ah, ho apprezzato Sì, è morto Siamo tornando per ora, voglio provare a cercare la chiave ma dai non si apre sempre a bloccare la cosa non tornare a una cosa guardate ricordo un'altra porta dopo te l'apri no 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 senti facciamo così e ci sbrighiamo prima veramente non sbrighiamo più ma veramente ci sono un stomaco e tu mi ricordavo una volta andiamo facciamo diciamo e ecco chi non lo sa qui c'è? All right, let's go find that successor Well, let's see what happens, since I don't know what to expect I'm going to find a boss, with a tele-transport That will bring us to a boss All right, let's see what happens All right, let's see what happens Let's see what happens Let's see what happens Sounds like a snowstorm, doesn't it? Quite a storm, we'll get blown away Is that a giant thorn of judgment, way off in the distance? Maybe you should move down, this is some serious mountaineering, huh? We've seen this, no harm indeed This is the snow in the middle Nicola was here when the hunter was there Let's see what's going on for now Oh, it's a giant mountaineering What time is this? What kind of flyingAPP is that we can get close to it? We've got something we can use? So that it won't open I've always liked this I've always liked this I've always liked this Man i've always liked this Man i've never liked this Il blizzardo non ne ha capito la perdita qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, di là si potrebbe scendere. Andiamo un attimo a controllare di qua. Oh, sarà storno. Un'altra cliffside stroll, eh? No, basta. Non lo sto sopportando qui. Un secondo. Ok. Senti, io voglio tornare un attimo giù. E qua si crepa male, ed era questo il rumore che avevo sentito. E no, dai. No, dai. No, dai. No, dai. No, dai. What happened way up in these mountains? No, dai. 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 No, ti sei a fellow. Antiugh... Dolly! No, dai... Dolly! No, dai. Oh, di là! No, dai pues... Si sembra interessante Ci sono perdite all'arrivo Prendeteci un po' un po' It's not as cold in here, huh? But don't say wrong. It's not as cold as you can. Sì, non è vero, non è vero. E allora Sapone biologico Non c'è nulla 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 C'è nulla Non c'è nulla Sì C'è nulla Non c'è nulla tu avete usato molto di velo. be careful be careful ma see that light musta non that's quite a view yeah I think I'm beginning to understand why people take up hiking as a hobby it's just like before Nicola what could have brought you all the way out here you weren't you turned to ash stay alert this could be a trap Nicola is that really you are are you trying to tell me something he vanished what the hell was that oh a vestige then are his memories inside are you no 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 Beh, se è la mia scuola, voglio qualcosa di bello, come un robot gigante che combina i occhi. Mi consiglio di mettere il tuo cuore. Un posto dove posso rilassare? Ok, ho capito! Quindi quando divento un successore, posso usare il mio potere per fare una copia di me? Cosa? Mia può sembrare difficile, ma io ho capito che si può rilassare. Penso che sarebbe davvero triste se fosse veniva. Mi scusate, ma no, i relics sono semplicemente pericolosi. Il più che usi il loro potere, il più rischio di fronte. E mantenere un duplico di te stesso, è molto più strato. Mi scusate che non posso farlo. Inoltre questo, il tuo cripto sarà bloccato le trasmissioni da l'interno. Ma anche se il tuo duplico sia con le vostre sister, non lo so, non potrebbe comprare nessuna esperienza con le loro. Sì, il nostro progetto è un progetto. È un progetto. Il nostro progetto è diventato. Il nostro progetto è diventato e tranquilloso. Questa è un progetto che ci si esche. Questa è un progetto. Ok, ok, ho capito. Questa è una festa. I'm sorry Jack I have to take care of me Nicola, a successor Up until now, all that time I was with Nicola It was just a copy he made of himself That means When I awakened as a revenant He was already I see That does explain it That's why he didn't get better after taking the bloodbeads It can't be The two of us We were always together We were always going to stay together And now After all this time He I didn't know I never even suspected Our Nicola was alone this whole time I think we'll find him farther up ahead Let's go see him That's why we're here, right? I will find him Grazie a tutti. 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 Okay. Okay. No. No. Molto probabilmente moriremo male. No. 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 Che fastidio. No. 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 co Che f*** Che f*** andiamo a fare un crepato male per lì c'ho delle zone da visitare in precedenza che facciamo? torniamo indietro allora ci fermiamo qua io intanto torno indietro me lo esploro e poi dopo se ne parla ok ragazzi alla prossima ciao ciao non torno indietro alla prossima ciao ciao